È stato siglato a Palermo, a Palazzo d'Orleanse, tra il Governo regionale della Sicilia e parti sociali, il protocollo per la partecipazione e il confronto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari. La firma sul documento è stata posta dal Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, dai segretari generali regionali della CGL Alfio Mannino, della CISL Sebastiano Cappuccio, della UIL Luisella Lionti e della UGL Sicilia Giuseppe Messina e il Vice Presidente dell'Anci Sicilia Giulio Tantillo. Questo protocollo, ha detto il Governatore, segna un importante passo avanti per la Sicilia nella prospettiva delle sfide che ci attendono nei prossimi anni con la programmazione e la spesa delle risorse nazionali ed europee. Accogliamo con favore il confronto con il Sindacato, soprattutto quando si inizia un percorso strategico di sviluppo. È fondamentale la collaborazione leale di tutti gli attori con i quali dialogheremo costantemente con l'intento di tutelare l'interesse comune e la correttezza dei conti pubblici per il bene della Sicilia e dei siciliani. Con la sottoscrizione dell'accordo si dà ufficialmente il via ai lavori del tavolo regionale territoriale e di settore, che sarà convocato con regolarità e che sarà composto dal Governatore o da un suo delegato, dal coordinatore della cabina di regia regionale, dal dirigente generale della programmazione, dai dirigenti generali dei dipartimenti di riferimento rispetto alle materie di volta in volta trattate e da un rappresentante per ognuna delle parti che hanno firmato il protocollo.